Novità in casa San Giovannese. Dopo l'esonero di mister Marco Coppi, arriva un altro esonero, quello di Giuliano Sili. Le parole del vice presidente della San Giovannese, Gabriele Grazi. Appunto la notizia è che Giuliano Sili è stato sollevato dal suo incarico, ma non per una scelta tecnica o per una, come ho letto nei giornali, una discrepanza che si era venuta a creare con le vedute della società. Semplicemente siamo in una fase strategica estremamente concitata. Le battute finali del campionato, ci sono da programmare dei playoff che onestamente a questo punto nessuno di noi si aspettava perché la volontà ferma, la speranza era quella di vincere il campionato in maniera diretta. Però ovviamente ci troviamo di fronte quindi a dover ristrutturare parzialmente quanto finora fatto e appunto riprogrammarlo secondo queste nuove indicazioni che il campo poi ci ha dato. Giuliano Sili ha lavorato e colgo qui l'occasione per dirlo in maniera grecia, è un professionista serio, noi lo stimiamo moltissimo. Semplicemente in questo momento di difficoltà che si è venuto a creare è la mia famiglia l'unica referente economica che la società in questo momento ha. Cioè dal salvarsi della stagione scorsa alla programmazione e alla gestione economica di quest'anno, da un punto di vista per l'appunto economico, lo sforzo è stato integralmente nostro. Ci è sembrato quindi giusto o comunque ci è sembrato naturale in questa fase dove ci vuole un ulteriore sforzo per programmare dei mesi in più di stagione e quindi in buona sostanza, passami il termine, frugarsi in tasca, adottare una soluzione interna in modo che quindi con mio padre che gestirà da un punto di vista amministrativo ed organizzativo la società, ovviamente mio fratello che rimane insomma essendo il presidente, insomma la massima dirigenza della società e l'esperto anche di calcio in famiglia e ci è sembrato giusto appunto adottare questa soluzione interna esclusivamente per tutelare e programmare quelli che sono i nostri interessi perché come dicevo, come ho detto insomma in maniera credo piuttosto chiara, lo sforzo economico è integralmente nostro.